E' entrato ufficialmente in vigore ieri l'obbligo per le pompe di benzina di esporre il prezzo medio regionale, oltre a quello effettivo di vendita. I gestori hanno l'obbligo di esporre, questo prevede la normativa, oltre ai prezzi di benzina, diesel, GPL e metano praticati dalla singola stazione di servizio sulle strade urbane, anche il prezzo medio regionale, mentre i distributori in autostrada sono obbligati ad esporre il prezzo medio nazionale. L'obbiettivo è aumentare la trasparenza e consentire ai consumatori di scegliere gli impianti più convenienti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy intanto pubblica sul proprio sito i prezzi medi dei carburanti, la media nazionale in autostrada e quella regione per regione. Secondo questi dati il prezzo medio di oggi in Campania è per il gasolio self 1,769, benzina self 1,919, GPL servito 0,665, metano servito 1,377. In autostrada il prezzo medio del gasolio self è di 1,864, benzina self 1,990, GPL servito 0,836, metano servito 1,539. L'obbligo tutelerà innanzitutto la stragrande maggioranza di gestori onesti isolando chi mette in pratica comportamenti scorretti sono le parole del Ministro Adolfo Urso. La misura è stata introdotta dal decreto ministeriale del 31 marzo scorso e fa parte del più ampio disegno del Governo di riordino del settore. Per quel che riguarda un nuovo taglio delle accise invece il tesoro con la sottosegretaria Lucia Albano ha escluso che ci siano i presupposti alla luce dell'andamento dei prezzi internazionali. Lo stesso Ministro Urso ha ricordato che le risorse pubbliche devono essere destinate laddove ci siano davvero delle emergenze.